Tra contagi, decessi, crisi economiche, lockdown e quarantene, come si misura la qualità della vita? La 31esima indagine del Sole 24 Ore sul benessere nei territori, presentata oggi, parte proprio da questo interrogativo. L'obiettivo dell'edizione 2020, che analizza 90 indicatori, è raccontare in presa diretta il differente impatto della pandemia da coronavirus sui territori, 6 le aree tematiche di analisi, ricchezza e consumi, demografie e salute, affari e lavoro, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Con una scelta di campo importante all'interno di queste aree, sono stati inseriti 25 indicatori che documentano le principali conseguenze da Covid-19 su salute, attività economiche e vita sociale. La classifica generale premia Bologna al primo posto, che guadagna ben 13 posizioni, e traina un po' tutte le altre province dell'Emilia-Romagna, sul podio anche Bolzano e Trento. Per chi invece si chiede circa la qualità della vita nel Sud, la situazione non è delle più rosee. Il Sud, infatti, resta fermo nella parte bassa della classifica, con i problemi di sempre. Quest'anno si chiude la classifica con Crotone, preceduta da Caltanissetta, ultima lo scorso anno. La provincia di Ragusa finisce al 99esimo posto, perdendo ben 19 posizioni rispetto allo scorso anno. Una curiosità di cui non possiamo certo andare fieri, tutte e nove le province siciliane si collocano all'89esimo posto in poi. Prima Palermo, seguita da Catani e Messina, poi ancora Grigento, Ragusa e Trapani, e infine Enna, Silacusa e Caltanissetta.